ciao a tutte ciambellini e ciambelline mie amori miei benvenuti in questo nuovo video non sarà un video smr come penso abbiate capito dal mio parlare normale ma sarà un video di makeup che tipo di makeup penso l'avete capito dall'intro makeup natalizio ovviamente voglio un po sbizzarrirmi sugli occhi su makeup occhi perché io adoro tanto 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 fare un makeup eccentrico sugli occhi anche se questo natale questo capodanno lo passeremo chiusi in casa ma va bene non fa niente in questo video voglio cercare di portare tanta 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 positività e tanta tanta spensieratezza noi ci proviamo andiamo a fare questo makeup insieme una specie di tutorial makeup natalizio io ho già preparato la mia base cioè ho messo già ho fatto la skin care ho messo già la crema idratante ho fatto le ho riempito le mie brow le mie sopracciglia e ho messo come tipo primer il correttore che uso solitamente e quindi ho già messo contorno occhi e tutto è il lip gloss trasparente idratante quindi partiamo direttamente a bomba con il makeup occhi cosa andremo a fare andremo a prendere questa mega palettona di revolution make up sapete io amo revolution quasi tutta la mia makeup collection di revolution quasi tutta evolution e nabla e anche qualcosina in più un 10 per cento 20 per cento di tu feste perché se nomi mi cazziate se io dico tu fesi e quindi tu fesi ed non so come si dica ho sentito da basic gaia che io amo tantissimo una grandissima makeup artist e youtuber che si dice tu face tu feste quindi lo dico così visto che l'inglese non assolutamente non lo parlo non lo so parlare ogni volta che faccio un makeup tutorial piccola parentesi c'è sempre gigino gigetto e eccolo qua e qui non vi dico mi fa un male cane lo già c'è già si è tolto il pus da sotto e tutto è uscito anche un pochettino di santo che poco poco e però è ancora qui è fresco cioè c'è tipo la carne viva da fuori diciamo vabbè non voi non mi interessa non è una cosa bella ho deciso un'altra piccola parentesi di mettere di fare questo tipo nel mio dialetto si dice o tuppi il sarebbe di fare un mini chignon e togliermi i capelli davanti invece di mettere il solito cerchietto quindi non so se sto bene ma non fa niente tanto dobbiamo truccarci e dobbiamo toglierci i capelli davanti poi alla fine vi farò vedere il video in video vi farò vedere in video il trucco finito mi ha giusto i capelli promesso quindi io solitamente sono molto basic sia come base che come colori di ombretti mi piacciono sempre gli stessi a livello cromatico io mi rispecchio tantissimo nei colori non so se sono autunnali o più invernali però su di me cromaticamente ci vedo bene il viola il color fragola i rossi loro bronzo questi colori qua perché sono una neutra con sottotono caldo quindi su di me almeno per quanto ne possa capire di armocromia penso mi siano bene questi questi colori molto caldi molto scuri anche se solitamente sono tendente sempre ad usare o tutta una palette viola o tutta una palette con dei color mattone bronzo oro o tutta una palette viola con gli shimmer con vari shimmer che vanno nel rosa nel panna e alcuni glitter di questi colori qui quindi è anche il nero il nero mi piace tantissimo penso mi sia bene penso 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 non lo so non me ne intendo tanto di armocromia però di makeup si quindi penso che su di me siano bene questi colori qui vanno alle ciance fatto una piccola intro andiamo con questa palette ripeto della revolution fortami tropical twilight si chiama è gigantesca penso che a 24 6 8 16 24 a 32 colori io poi ho contato ma penso ci sia scritto dietro ve la faccio vedere e diciamo che è bellissima innanzitutto e diciamo che come colori sono quelli che vi ho appena elencato però andremo a fare qualcosa di più strong di più eccentrico di più natalizio andremo a usare il verde non so se il verde chiaro il verde scuro ma andremo ad usare il verde non sugli occhi non sopra proprio perché non lo amo amo tutti i colori penso che non ci sia un colore più brutto dell'altro non ci sia un esciato più brutto dell'altro o magari che a me piacciono tutti i colori però le mie preferenze ovviamente mi piacciono tutti i colori di esciato assolutamente quindi bando alle ciance partiamo allora io con questo pennello precision soft crease ho già applicato down questo non come colore di transizione ma come base lo faccio sempre diciamo per settare il correttore su tutta la palpebra metto fino e sotto la scala sovraccigliare tanto non si vede do una base molto molto chiara molto neutra eccolo qua non so se si vede questo down che dovrebbe essere un crema e quindi ho applicato questo come base poi andiamo andiamo a prendere sand down questo qui che dovrebbe essere un mattone con un pochettino di bordeaux all'interno e con questo pennello soft dab smudge andiamo a fare la la linea di transizione andiamo io mi guardo sempre nel mio fedelissimo e amatissimo specchio perché se non riuscirei a fare niente comunque andiamo a creare la linea di transizione il colore di transizione questo è un pennello a sedole molto 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 larghe piatto e sono i pennelli di nabla che io amo 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 full event quindi questo è un colore di transizione andiamo a fare la stessa cosa dall'altro occhio allora guardate mi sono tenuta abbastanza ampia e abbastanza lunga con e ho voluto usare come colore di un colore molto molto forte che poi andrà sfumare sopra con un colore più chiaro al momento ho creato solo la linea di transizione poi alla fine del nostro occhio prendiamo horizon che è un pochettino più scuro rispetto a senza un del del colore di transizione e lo mettiamo alla fine lo picchiettiamo alla fine del nostro occhio con questo pennellino pointed crease sempre di nabla che io adoro dura 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 poi lasciamo sempre la nostra crisi libera perché andremo a mettere un colore wow dei glitter wow penso che andrò a usare la miami glitter palette di nabla penso che andrò a usare proprio quella e adesso sfumiamo sopra con movimenti circolari sempre con il precision soft crease questo qui più grande molto fluffy fluffy sunrise sunrise questo non lo so è aranciato un pochettino aranciato un mattone aranciato e lo andiamo a sfumare sopra molto leggermente con movimenti circolari e lo andiamo a per formare a mischiare miscelare col colore di transizione vedete andiamo a mescolare col colore di transizione allora io adesso mi mantengo così larga e lunga con il mio makeup occhi poi dopo con il correttore andrò a pulire e a sfumare come si deve quindi adesso che cosa manca manca il colore top vado con questo pennellino lash line smugger ho messo un po di concealer sopra la crisi e vado a creare proprio una cat crisi una piccola cat crisi per poi metterci sopra un bellissimo e shadow glitter uso super glitter uso molto 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 bello sono ancora indecisa quale mettere quale andare ad applicare ma ce la posso fare diciamo che non ho voluto allargare pulire più di tanto la cat crisi perché questo è l'effetto che voglio questo effetto qui diciamo molto stretto giusto sulla crisi piccolo piccolo perché questi glitter che andrò a usare sono molto all'interno contengono anche delle micro paillettes quindi sono molto molto intensi come come glitter ecco come shadow glitter andrò a prendere la miami lights glitter palette di nabla come avevo detto e non so penso proprio che ci siano bene sia scorpio che aris però aris lo vedo più come punto luce perché molto molto bianco proprio bianco 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 puro con delle per le scienze all'interno azzurrine poi c'è scorpio che è un mattone e penso che andrò ad applicare questo su tutta la crisi e questo qui poco 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 come nel lì nel corner come punto luce non vado ad applicarlo con le dita perché tenendo avendo fatto le unghie così lunghe non riesco a metterlo precise andrò a rovinare tutto il il make up diciamo anche se l'ideale sarebbe prelevarlo con le dita io vado con questo pennellino lash liner smudger sempre con cui ho fatto la crisi e lo vado piano piano guardate e lo vado piano piano a spiaccicare e apprezzare sul la mia crisi sulla mia crisi ovviamente come sapete io tendo sempre a fare la base fare sempre il viso a truccare il viso dopo perché ho sempre paura del fallout poi andando ad usare dei colori così dei glitter eccetera eccetera andrei a rovinare troppo la base e non mi va di andarla ad inficiare ecco la base e poi andare ad usare troppa 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 cipria perché di cipria non ne uso quasi mai avendo la pelle secca molto molto secca specialmente in inverno in estate varia tra secca e mista anche se questa pallettina penso sia uscita in estate questi glitter sono molto 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 natalizi molto molto natalizi guardate qui ho applicato scorpio che è all'interno ho applicato aris aris e scorpio troppo bello però ho dimenticato un passaggio adesso andiamo a riprendere la palettina intensifichiamo qui la fine per dalghi uno stacco dalla crisi e per non lasciare spazzetti vuoti eccetera eccetera io comunque come base viso andrò ad utilizzare sempre la mia bb cream quindi andrò a fare molto velocemente senza che andrò a fare un pochettino di contouring ma voi potete usare tranquillamente fondotinta ovviamente per l'occasione ecco io adesso sto facendo questo truc strong però dopo praticamente devo scendere devo andare al lavoro detto tutto quindi sono andato ad intensificare con horizon la fine del mio occhio e dagli lo stacco tra la crisi e la fine dell'occhio adesso dopo aver pulito il penne il pennellino che ho messo il glitter vado vado a prendere visto che ho detto che andavamo ad usare un verde night walk che è un verde bottiglia praticamente eccolo qui night walk e lo andrò a mettere sotto qui sotto la rima inferiore cigliare giusto per fare un po' diciamo per andare ad usare anche il verde ecco per dargli quell'effetto albero di natale un po tutto colorato glitterato con le palline di natale glitterate rosse io infatti delle palline così di questo colore qua di questo glitter qui e niente poi prendiamo il pennello questo fluffy più piccolino pointed crease e andiamo a sfumare sfumare il verde questo verdone bello forte 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 dopo aver sfumato bene bene il verde vado a mettere all'interno del mio occhio questa matita nera della lancome che c'è praticamente l'ho portata finita non è manco temperata però vado a metterla all'interno vado a pulire un po sulla mano e vado a mettere all'interno della mia rima giusto perché per dargli un tocco più scuro per dare al mi capo un'intensità maggiore e perché io amo amo davvero su di me la matita all'interno dell'occhio posso farci niente più forte di me vado a pulirmi la mano perché è piena di glitter quindi me li sto spiaccicando anche in faccia vado a pulirmi la mano e andiamo continuiamo con il mascara e poi vado con la base arrivo rieccomi volevo tranquillizzare mi viene sempre da fare così come negli smr volevo non tranquillizzarvi ma dirvi che anche essendo dei glitter molto molto strong molto molto presenti molto molto tanto glitterosi ecco e visibili con all'interno queste anche delle paiettine non so se riuscite a vedere guardate c'è una esattamente qui perché a volte si prendono e a volte no con il pennello con le dita vengono via meglio però io non potevo ciecarmi con le unghie quindi poi non andava messo bene e in pratica mi sono passata la mano in faccia che era piena di glitter che avevo pulito il pennello sulla mano solite mie grezzate niente mi sono andata a pulire un po ho lavato le mani e volevo assicurarvi che non fanno tantissimo fall out assolutamente però o mettete qualcosa sotto gli occhi oppure non fate la base come ho fatto io assolutamente perché se no andrebbe a rovinarsi quindi andiamo con il mascara mascara il mio preferito monsieur big di lancome la vita fa delle ciglia assolutamente favolose io non ne posso fare a meno a meno assolutamente non c'è bisogno di tante parole per dire cosa fa monsieur big di lancome perché si vede anche se io ho delle ciglia molto molto lunghe e voluminose già loro per sé però monsieur big di lancome ci dà il suo effetto visto che mettendomi così si vede benissimo visto che io sono molto selettiva a livello di mascara anche avendo una bella ciglia consigliatissimo questo di monsieur big di lancome perché fa cioè non ha bisogno di spiegazioni allunga le rende molto molto piene piene a tanto tanto prodotto quindi o dopo averlo usato vado a pulirlo con questo dei make up forever che mi è finito excessive lash che anche era molto molto bella uno scovolino piccolissimo e che aiuta anche specialmente le ciglia inferiori e vado ad utilizzarlo visto che è finito mi sono trovata benissimo anche con questo per pulire il tanto 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 prodotto che rilascia sulla ciglia monsieur big anche perché a questo scovolino super cicciotto è ottimo per prendere tutte le ciglia bellissimo bellissimo non posso che fargli i miei più sentiti complimenti e poi io non sono la tipa assolutamente che utilizza le ciglia finte io su di me le odio anche perché ho le ciglia abbastanza lunghe non penso mi servano però allora adesso cosa andremo a fare molto molto velocemente molto molto velocemente no velocemente andremo ad applicare la mia bb cream saten di maple in new york poi andremo a correggere con il mio correttore della max factor tutto il trucco quindi andremo ad utilizzare prima questo e poi 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 vado ad opacizzare un pochettino il tutto con la cipria di wicon eccola qua con la cipria di questa palettina di wicon questa palettina di contouring di wicon mi vedo io non è cosa eccolo qui questa cipria gialla camouflage e poi vado di contouring con la palettina di elchioba ovviamente la mia preferita palettina di contouring in polvere quindi quindi andiamo prima col correttore con il correttore io cosa ha fatto sono andata a dare una ripulita al make up ad aggiustarlo poi ve lo farò vedere meglio meglio molto meglio andava ad aggiustare tutto diciamo il finale sono andata un tocco più liftato come mi piace a me mi piace tanto tirare rimanere abbondante sulla fine dell'occhio e poi tirarlo aggiustarlo con il correttore e dargli questa forma appuntita ecco diciamo mi piace tanto portare lo sguardo in su perché comunque non ho una palpebra ampissima non non fa quelle non ho la palpebra bella ecco ho comunque una palpebra che diciamo quando vado a mettermi in modo naturale qui tende a chiudersi quindi il make up non si vede più di tanto e preferisco andare sempre un pochettino con il colore più su rispetto a mantenermi più giù perché più giù non si vedrebbe proprio niente alcun tipo di effetto quindi preferisco non andare sotto sotto assolutamente sotto sotto la l'arcata sopraccigliare perché non mi piace neanche a me però mandene mantenere il make up sull'osso del dell'occhio perché così almeno si vede che sono truccata è la mia forma dell'occhio che preferisco vederla in questo modo molto molto truccata e molto molto alto il trucco ecco qua io vado sempre a fare così sempre ormai la smr fa parte di me il make up e la smr anche quando mi trucco senza fare video faccio mi pulisco le mani sempre sempre però vi chiedo scusa perché questo non è un video smr non so se questo questo codino questo signor mezzo signor è bellissimo da vedere però andiamo avanti e andiamo a mettere la bb la bb l'andiamo ad applicare sta anche finendo sì che bello ok l'andiamo ad applicare con questa spugnetta ergonomica morbidissima sempre della love and love ex mi sembra che si chiama si love ex molto molto morbide io vado a fare quattro punti così e poi la sfumo tranquillamente su tutto il mio viso anche un po sulle orecchie effetto effetto foto questa bb cream e light per l'estate era un po troppo chiara per l'inverno dopo aver applicato molto velocemente la mia bb andiamo con un po di contouring vado a prendere uno dei miei pennelli un po così vado a spruzzarlo con il fix in spray poco poco e lo vado a tamponare sulla mano vado a mischiare dinamo e zang tum tum li vado a mischiare terra calda e terra fredda e vado a fare un po di contouring dopo aver fatto un contouring molto molto leggero vado a mettere il blush giusto un pochettino perché molto molto rosa mettere a tutti i nostri amici sono? non? allora allora cosa ho fatto ho dimenticato di mettere un pochettino di cipria quindi vado a prendere giusto un po e a settare sotto gli occhi un pochettino anche se sopra c'è il blush ma non fa niente dopo lo andiamo a riprendere cioè se sotto sullo zigomo c'è il blush ma non importante e vado sulla zona t a settare un pochettino non vado ovunque dopo solo per voi ed esclusivamente per voi oltre questo make up occhi strong andrò a mettere un rossetto strong anche se dopo devo toglierlo perché devo indossare la mascherina quindi andiamo a riprendere un pochettino il blush io lo metto anche sul nasino il brush vado a riprendere ok illuminante qui sopra lo zigomo un po' qui sulla punta del nasino al centro del naso qui e anche un po' sotto l'arcata sopraccigliare per illuminare lo sguardo cosa andiamo ad applicare andiamo ad applicare questo fantastico lipstick di revolution super rouge vado eccolo qua guardate quanto è bello bellissimo bellissimo questo rossetto favoloso ok amori miei noi il make up l'abbiamo finito vi lascio alle diciamo al videoclip con un po' di musichetta sotto e senza luci senza la luce della ring light solo con le luci e sono artificiali purtroppo però le luci che ho in camera e mi sciolgo questo coso orribile e vi faccio vedere molto più da vicino con un filmatino amatoriale il make up il risultato del make up spero vi sia piaciuto spero vi piaccia spero lo realizzerete anche voi lasciatemi un like se questo video tutorial vi è piaciuto se questo make up vi è piaciuto e vi mando un forte bacio un forte kiss ci vediamo al prossimo video amori ciao 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 ciao